Ed eccoci pronti a una nuova puntata che oggi ci permette di occuparci di una grande artista, protagonista, il cui nome non smette di essere accompagnato da scandalo misto ad ammirazione e sorpresa ogni volta che lei sale su un palco o inizia a cantare, come è accaduto naturalmente in occasione anche del Festival di Sanremo di quest'anno, ma certo non soltanto. E' chiaro che stiamo parlando di Loredana Bertè che di sé dice sono sempre la ragazza che per poco già si incavola, utilizzando un'altra espressione per la verità e per riprendere le parole della sua ultima canzone pazza. A 73 anni più che mai è una non signora, fatina rock dai lunghi capelli blu, eccessivi e fuori standard come lei. Già sposa, d'altro canto, senza elibatezza, suora, futura mamma nubile con il finto pancione, sopra a gambe nude e mozzafiato che sfoggia peraltro ancora oggi. La sua storia Sanremese resta legata a doppio filo con quella della sorella Mia Martini. Anche nei mesi scorsi infatti era riemersa la vicenda delle vittorie scippate per così dire a Mimia Sanremo che calcò quel palcoscenico cinque volte, sempre con brani entrati poi negli annali della canzone italiana. Tra la prima, nell'82, e non finisce mica il cielo, e l'ultima del 93, proprio in coppia con Loredana, con la canzone Stiamo come stiamo, sulla raffinata artista regina, dalla voce straordinaria si abbatte la crudele marginazione dello show business e del mondo discografico, generata dalle maldicenze che le avrebbero segnato l'anima. L'intitolazione del premio della critica, di cui ebbe record di assegnazioni a fronte dell'irraggiungibile primo posto al festival, nell'anno successivo alla morte, secondo tanti colleghi amici di Mimì, fu un colpevole tentativo di risarcimento. Anche se a rivendicare ingiustizie di classifica furono gli altri, compresi anche i falsi amici, mai lei. Nino Romeo, patron dello storico premio internazionale di musica Mia Martini, nella sua Bagnara Calabra, ricorda, infatti, Mimì è sicuramente una vincitrice morale del festival di Sanremo, ma non si è mai sentita tale. Quando mi è capitato di sentirla, dopo le sue partecipazioni, era sempre felice, perché innegabilmente era l'interprete di cui si parlava di più. Al di là del risultato, le canzoni andavano sempre bene e lei era soddisfatta. Le polemiche le montavano gli altri, spesso per farsi pubblicità attorno al suo nome, ma Mimì non era tipo da vedere complotti e non aveva risentimento verso nessuno. Ma ci fu davvero qualche manovra irregolare che sottrasse la vittoria a Mia Martini? A fare scalpore fu soprattutto l'incredibile nono posto di Almeno tu nell'universo dell'89? Beh, non ci sono prove, dice Romeo, e credo che a lei non interesserebbe montare un caso. Nell'ambiente della discografia sanno tutto e tutti come andarono le cose e qualcuno ancora sostiene di conoscere retroscena nascosti, ma è difficile distinguere la verità dalle speculazioni pubblicitarie. In ogni caso, le due sorelle erano legate davvero anche da un destino particolare, nate nello stesso giorno, il 20 settembre, a tre anni di distanza. L'anno scorso, tra l'altro, in un post pubblicato proprio nel periodo sanremese, la Bertè scriveva Di tutti Sanremo ce n'è uno che porto dentro al cuore, avere mia sorella Mimì con me ad affrontare il bello e il brutto di quello che rappresenta Sanremo. Nella serata dedicata ai duetti, mi piace ricordarci così. Il riferimento ovviamente era l'esibizione di Stiamo come stiamo, con Loredana Bertemi e Martini alla corte di Pippo Baudo, che si divertì a stuzzicare le differenze caratteriali fra le due cantanti. Una leggenda festivaliera ipotizza che quella sera avessero anche litigato prima di entrare in scena. Ma per noi è soltanto il momento adesso di riascoltare proprio quel brano. Grazie a tutti.